Questa notte l'abbiamo arrestato in fragranza per tentata rapina aggravata ai danni di una donna che stava prelevando al postamat del Viale Tunisi. Gli elementi raccolti e l'attività espletata nell'immediato fanno ritenere che con buona probabilità, con buona ragionevolezza, potrebbe essere anche l'autore di alcuni episodi analoghi consumati sempre in questo centro con identico modus operandi ai danni degli stessi obiettivi, sempre i postamat di alcune agenzie postali cittadine. È emblematico l'episodio di questa notte che non andare a prelevare da soli può essere molto utile perché è stato importantissimo il contributo anche della persona che accompagnava questa donna che ha allertato subito, si è posto all'inseguimento e poi nel chiamare il numero di emergenza ha saputo dare delle descrizioni molto lucide della persona che è stata immediatamente bloccata dagli equipaggi che erano in zona anche per questo servizio e per questo fenomeno che stava cominciando sicuramente a mostrare una preoccupante recrudescenza.